Atmosfera incandescente da grande serata qui a Vicenza. Pensa che proprio qui sotto in Piazza dei Signori è stato allestito uno schermo gigante che permette al pubblico che non ha potuto accedere alla Basilica Palladiana di seguire lo spettacolo e sono sicura che ora si alzerà un boato quando il mio posto su questo palco sarà preso da una bellissima e bravissima artista nata sotto la stella di Canale 5. Con il suo nuovo grande successo crociata è il momento di Celeste! La tua luce all'improvviso La mia scena illumino E tali con il sorriso La mia vita ti do E non chiedo di più Nel mio sangue solo tu E sarai la mia crociata La per cui colaterò A chi Non ti rispetterà Io ti capirà Io ti capirò E mi segni Lascerò A chi Invece 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 A chi invece ti amerà Tutto domerò fino al giorno che vivrò A chi non ti rispetterà Io ti caverò e i miei segni lascerò A chi invece ti amerà Tutto domerò fino al giorno Che vivrò